Ragazzi buonasera a tutti bentornati su Crypto Salad qui Federico è il 27 maggio 2024 bitcoin 69 mila dollari in questo momento. Guardiamo insieme la situazione sul time frame giornaliero per iniziare guardiamo il mensile perché proviamo a diciamo ripassare un po' quelli che potrebbero essere i target rialzisti per bitcoin in questo bull market. Parliamo poi dell'alving quali sono le conseguenze di questo dimezzamento del block reward anche in termini di prezzo e per ragazzi vi porto una meme coin diciamo relativamente nuovo ma ancora con una market cap piccola rispetto secondo me al potenziale che potrebbe raggiungere. Quindi se vi sembra interessante lasciate un mi piace iscrivetevi al canale cliccate la campanella per le notifiche lasciate i vostri messaggi trovate in descrizione dei referral link da utilizzare per sostenere il canale. Ragazzi guardiamo insieme bitcoin quindi siamo sempre all'interno del range diciamo rimbalzando tra supporto più o meno in zona 60 mila e resistenza tra i 71 e i 73 mila dollari quindi sicuramente il compito per i bulls di bitcoin è quello di spingere bitcoin al di sopra del range dei 73 mila dollari di resistenza. Quello che è interessante che dopo essere stati rigettati diciamo per la quarta volta dal range di resistenza bitcoin sta per adesso creando un higher low eventualmente per andare poi di nuovo a ritestare la resistenza dei 73 mila dollari. Quindi stiamo attenti al fatto che bitcoin continui a creare higher low eventualmente se perdessimo questo minimo diciamo che sarebbe più probabile un ritorno addirittura verso il range low che creerebbe un po' di problemi alla teoria di Wyckoff che vede una schematica di riaccumulazione. Quindi per adesso diciamo tutto bene per i bulls sarà importante comunque mantenere una struttura bullish. Se guardiamo il potenziale target quindi se bitcoin uscisse da questo range di potenziale riaccumulazione se misuriamo l'ampiezza del range un target semplice proprio potrebbe essere rappresentato dagli 86 mila dollari che appunto è rappresentato dalla larghezza del range proiettato al di sopra del livello di resistenza. Quindi un target di proiezione a 86 mila dollari all'incirca per bitcoin. Per quello che riguarda la Shribbon vi ricordo che siamo sempre nell'attesa di un segnale buy importante della Shribbon siamo sempre in una fase di capitolazione che potrebbe durare ancora qualche settimana e quindi potenzialmente il segnale di buy di conferma del recupero dei miners potrebbe arrivare già a giugno inoltrato. Guardiamo per ragazzi il time frame mensile perché proviamo a ripassare un po' di target per questo bull market di bitcoin utilizzando quelli che sono gli strumenti di Fibonacci collegando massimi e minimi fatti da bitcoin. Vediamo che intanto sempre importante guardando il mensile abbiamo se chiudessimo il mese di maggio in questo modo sarebbe un conferma positiva da parte dei bulls i quali hanno protetto la zona di potenziale supporto di precedente resistenza in appunto attuale supporto. Quindi i 60.000 barra 63.000 sono diventati da prima resistenza molteplice anzi duplice tra aprile 2021 e dicembre 2021 sono diventati invece un punto di supporto proprio nel mese di aprile maggio 2024. Quindi una volta confermata diciamo la chiusura di bitcoin sopra il range secondo me lo scenario resta particolarmente positivo per i bulls fintanto che riusciranno a difendere con delle chiusure mensili il livello dei 60.000 dollari. Se facciamo una proiezione di Fibonacci parlando di target secondo me quindi a mio avviso un target plausibile per bitcoin in questo bull market se ovviamente aggiornassimo il precedente massimo storico fatto a marzo scorso diciamo che un target per il bull market utilizzando l'estensione dell'1.61 barra 1.65 considerando il top del 2021 e il bottom del 2022 l'estensione 1.61 ci porta a 174.000 dollari diciamo in un range che va tra i 174.000 e i 182.000 Quindi secondo me questo potrebbe essere il target diciamo più ragionevole per l'attuale bull market di bitcoin vi ricordo che dopo l'alving solitamente si assiste nei successivi 12 barra 18 mesi alla fase più rialzista di bitcoin e credo che in questa occasione non sarà diverso. Quindi questo è il primo target eventualmente poi abbiamo il secondo target che è stato raggiunto anche nel bull market 2017 diciamo un target un po' estremo 2.27 a 462.000 dollari che rappresenterebbe diciamo il target che confermerebbe la continuazione anche del modello dello stock to flow perché in questo momento lo stock to flow vedrebbe addirittura un top sopra i 400 barra 450.000 Quindi un target estremo sicuramente molto estremo ma a mio avviso possibile poco possibile ma comunque qualche punto percentuale di possibilità esiste per questo target. Se guardiamo questo tweet da parte di Crypto Con che parla dell'andamento della price action dopo l'alving ed è interessante perché vediamo che alla data dell'alving abbiamo tutte queste linee rappresentano l'andamento del prezzo dopo l'alving. Siamo oggi nella epoca 5 quindi ogni block reward 3.12 btc mentre abbiamo avuto la prima epoca con 50 bitcoin ogni block reward a favore dei miner che vanno a validare un blocco nella blockchain di bitcoin. E quello che è interessante è che ogni linea rappresenta l'andamento del prezzo dopo l'alving e il cerchio rappresenta il top. Quindi vedete che lasciando perdere il genesis quindi lasciando perdere quanto accaduto dal genesis block dal primo alving vediamo che abbiamo il primo top il secondo top e il terzo top quello del 20 del 20 21. Quindi quello che si può notare guardando questi tre top è che c'è una diminuzione dei moltiplicatori quindi il primo ha fatto più moltiplicatori del secondo il quale ha fatto più moltiplicatori del terzo quindi c'è una diminuzione dei moltiplicatori e questo eventualmente sarebbe in linea con un top. Se raggiungessimo il top dei 170.000 sarebbe in linea diciamo con una riduzione ulteriore dei moltiplicatori che sarebbero ancora più bassi non di molto ma rispetto all'ultimo bull market praticamente un moltiplicatore al di sotto dei tre volte rispetto al precedente all time high. Quindi diciamo che questo sarebbe un top in linea con i diminishing returns mentre questo non lo sarebbe quindi sarebbe un top che va a modificare questo trend di diminuzione dei rendimenti e la tempistica come vedete mentre il primo top è raggiunto il primo top del primo ciclo è il più veloce. I secondi due top sono raggiunti più o meno all'incirca dopo 18 mesi rispetto all'halving quindi anche qua interessante come teoria la teoria dell'allungamento dei cicli che sicuramente è stata invalidata dall'ultimo top del 2021 dove il ciclo non è stato più lungo rispetto al 2017. Quindi se il ciclo fosse uguale potremmo aspettarci un target appunto dei 170 intorno alla fine del 18 mesi quindi settembre 2025 all'incirca. Fatemi sapere cosa ne pensate su queste speculazioni riguardo all'andamento del prezzo di bitcoin sulla base dell'halving. Ragazzi in ultimo vi porto questa meme coin perché secondo me c'è un'opportunità si chiama NPC e sta per non playable coin quindi praticamente una coin ispirata agli NPC che stanno per non playing character. I non playing character sono praticamente la meme coin è ispirata a questa famigerata immagine meme praticamente dell'individuo medio non playing character quindi il personaggio che non gioca ma semplicemente segue le correnti attuali. E quindi è una meme ispirata a quella immagine dell'NPC perché è interessante intanto perché è diciamo una meme a differenza delle meme ispirate ai cani ai gatti è una meme diciamo più sociale e più politica e quindi ritengo che possa essere interessante anche con l'approssimarsi delle elezioni americane di fine 2024. La seconda cosa interessante è che su base e se siete bullish sul layer 2 base sicuramente avere una locazione su una coin su base è importante e poi potete per ogni per ogni NPC coin potete mintare una immagine unica potete creare una immagine unica con diverse peculiarità. Praticamente ci sono milioni di combinazioni potete creare il vostro NPC e ogni coin ogni coin NPC è mintabile per una immagine unica per quello che riguarda il prezzo diciamo che è salita già parecchio ultimamente però ha ancora una market cap relativamente bassa rispetto alle altre meme coin più conosciute. Praticamente siamo ancora 74 milioni contro alcune meme coin ovviamente che hanno raggiunto i billion di market cap ovviamente era meglio raccontarvela qualche mese fa ma secondo me c'è comunque un'opportunità nel medio lungo termine. Quindi 74 milioni di market cap prezzo 0.009 quindi potete scambiare una singola coin con una immagine con una immagine del dell'NPC. Infatti loro la chiamano anche meme fungible fungible token perché sostanzialmente vi consente di ogni coin è garantita sostanzialmente da una immagine specifica e unica. Ragazzi per oggi è tutto fatemi sapere cosa ne pensate spero che sia stato chiaro io vi ringrazio per la vostra attenzione noi ci vediamo al prossimo episodio ciao.